Lei è obbligata a prendere da subito parte alle misure di riabilitazione penale di questa prigione. Se voi pensate che queste siano lezioni di ballo, avete frainteso. Insieme si crea qualcosa che è più grande della somma delle singole parti. Che pensi di fare una volta fuori da qui? Da quando ho memoria ho sempre desiderato una sola cosa. Volare. Non sei obbligata a ballare se non lo vuoi. Ti verrà da dentro. Tutta Berlino ci sta guardando. È l'occasione per dimostrare che possiamo fare qualcosa insieme. È questo ciò che si prova. Siete pronti? Sì! Nulla mi può fermare. Io volo. No. No. No.